Ciao ragazzi, guardate chi c'è con me Ciao Siamo qua insieme per vedere la partita Siamo qua insieme per 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 la partita Zeeee! Uuu! Giorgi! Non, non! Guarda che... ...e 2,5 euro! E' schicchi! E' schicchi! E' schicchi! E' schicchi! ebbè mangiare il giallo leo da l'alanzo Per lancio lungo, per lancio lungo, curio, è presa. Bravo, bravissimo, bravo, di nuovo, parte 2, bastroni in loro. Bravo, bravo. E' palancione della nata ora? E' palancione. E' palancione. Ma non è passato sto malù Vai Matteo vai Vai Matteo vai Ma non è passato sto malù Oh no 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 Eh ma è stato solo tu Oh no 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 Oh 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 no Oh no Oh no Oh oh Of course Oh no Oh no Oh ho ní atirà chiù Natica ¿Ah no? Oh ho viste Bravo! Bravo! Emiliano! Bravo! Alla vuoi! Volevo a fare un buono! Il ving! Gol! Bravo! Ma si è più forte come difensore! Ti! Bravo! Ma Olivera si sta prendendo un caffè! Ehi! Oh oh! Che tempo! Alla vuoi! Alla vuoi! Alla vuoi! Wow! Quattro! Quattro! Bravo! 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 Ehi! Bravo! Ehi! Bravo! Ehi! 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 Grazie a tutti